La presenza sulla pubblicità dei lavori vi comunico che ai sensi dell'articolo 13,4 del regolamento della Commissione la pubblicità dei lavori della seduta odierna per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla web tv della Camera dei Deputati e successivamente sul canale satellitare della Camera dei Deputati. Avverto che nell'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico. Informo che in allegato al resoconto della presente seduta saranno pubblicate le risposte pervenute ai quesiti dei colleghi unitamente al testo del quesito a cui si riferiscono. Saluto e ringrazio di nuovo il Ministro Di Maio per la disponibilità a intervenire nella seduta odierna. Il Ministro è accompagnato dall'Avvocato Vito Cozzoli, Capo di Gavinetto, dall'Avvocato Marco Bellezza, Consigliere giuridico e dalla Dottoressa Sara Mangieri, Capo Ufficio Stampa. Ricordo che come avvenuto in precedenti audizioni per l'organizzazione dei lavori si prevede un intervento introduttivo da parte del Ministro per una durata di circa 20 minuti. Seguiranno i quesiti da parte dei gruppi che avranno a disposizione un'ora complessiva di tempo, così è ripartita. Movimento 5 Stelle, Lega, Forza Italia, Partito Democratico, 10 minuti ciascuno. Fratelli d'Italia, Autonomia, Ministro Senato e Leucamera, 5 minuti ciascuno. Successivamente il Ministro avrà la possibilità di replicare ai quesiti. Cedo quindi la parola al Ministro Di Maio. Grazie Presidente, grazie a tutti i membri della Commissione. Esprimo il mio ringraziamento per l'invito che mi offre l'opportunità di intervenire per la prima volta in questa Commissione, con la quale ritengo sia necessario un dialogo franco, aperto e continuo. Il mercato televisivo, come quello dei media nel suo complesso, è attraversato da una profonda trasformazione. La fruizione dei contenuti audiovisivi passa sempre più attraverso la connessione a Internet e l'utilizzo della banda ultralarga, con il palinsesto che cede il passo alla personalizzazione dei contenuti. Non esiste più il pubblico, ma una varietà di pubblici che, a seconda delle esigenze, utilizzano diversi medi e costruiscono il proprio palinsesto. È come se esistessero cristallizzando due universi di pubblico, coloro che possono permettersi l'accesso a quei contenuti e coloro che, al contrario, devono accontentarsi, tra virgolette, della programmazione generalista. Un divario anche generazionale, che pone un problema di uguaglianza e universalità nell'accesso ai contenuti di qualità in uno scenario che vede l'avvento dei grandi player internazionali che, con le risorse economiche delle quali dispongono, sono in grado di cambiare il volto al mercato per come lo conosciamo oggi. Il servizio pubblico radio-televisivo, nel quadro brevemente descritto, gioca e giocherà un ruolo determinante nel prossimo futuro. Anzitutto nella garanzia di informazioni e contenuti di qualità per tutti gli italiani e poi sul versante dell'innovazione tecnologica, in un'epoca che è proiettata verso la post-convergenza. In questo senso, il riferimento che l'amministratore delegato Fabrizio Salini svolge alla RAI come una moderna media company mi sembra vada proprio nella giusta direzione. Con un mercato che evolve a velocità mai viste prima, il servizio pubblico deve puntare con decisione su contenuti di qualità e da respiro internazionale, sperimentando formati e linguaggi nuovi, assicurando un'informazione di qualità e che guardi oltre i rispettivi e ristretti confini nazionali, avviando progetti innovativi, coerenti con il nuovo ecosistema dei media, promuovendo l'alfabetizzazione digitale. Come Ministro dello Sviluppo Economico e come Ministero dello Sviluppo Economico, non ci tiriamo indietro davanti a questa sfida di contribuire a modernizzare un servizio pubblico di qualità che sappia rimodulare la propria offerta in modo adeguato allo scenario attuale e che sappia anche guardare ai modelli stranieri più virtuosi. Non citerò la BBC, che ciclicamente viene evocata in questa Commissione come sempre da seguire, ma penso che sia arrivato il momento e ci siano tutte le condizioni per cambiare questo Paese e la RAI, che ne è un'articolazione fondamentale. Al di là del possibile inizio di un dialogo su future prospettive di riforma, che mi auguro tuttavia di poter intavolare con voi, immagino che la Commissione si attenda piuttosto all'audizione di oggi gli aggiornamenti sulle attività in corso che vedono in prima fila il Ministero e che ho l'onore di dirigere. Come ben sapete, ci troviamo nel primo anno di applicazione del nuovo contratto nazionale di servizio per il quinquennio 2018-2022, il primo approvato dopo il rinnovo della concessione alla RAI. Oltre alla cornice normativa e contrattuale, è stato rinnovato anche il management nominato a settembre e subito insediatosi, consentendo una programmazione puntuale e sinergica delle attività congiunte, in un'ottica di trasparenza e nel segno della novità rispetto al passato attraverso il rafforzamento delle competenze ideative interne e la valorizzazione del presidio territoriale delle sedi regionali. Il contratto di servizio a decorrere da quest'anno avrà un'estensione della propria durata di 5 anni rispetto alla validità triennale del passato. Si tratta di un arco temporale molto lungo, ancor più in riferimento alla velocità e continuità con cui le nuove tecnologie si evolvono e si diffondono e all'ascesa di nuovi competitor globali. Il nuovo contratto di servizio individua le linee guida dell'attività della RAI che dovranno essere tradotte dalla concessionaria in specifici progetti operativi da condividere con il Ministero dello Sviluppo Economico e che dovranno dare attuazione all'interno del piano editoriale e del piano industriale di durata triennale. Tra essi vi sono l'ampliamento e la diffusione del segnale al 100% della popolazione, la realizzazione degli investimenti infrastrutturali, lo sviluppo per la prima volta di un canale in lingua inglese di carattere informativo, di promozione dei valori e della cultura italiana nel mondo e volto alla diffusione di opere cinematografiche, documentaristiche e televisive, il lancio del canale RAI Istituzioni che raccoglierà tutta l'informazione sull'attività delle istituzioni nel nostro Paese, l'estensione dell'offerta rivolta alle persone con disabilità. Con riferimento agli obiettivi di sviluppo tecnologico, il contratto di servizio precisa che la RAI, in quanto concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, debba contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie per favorire l'innovazione e la crescita economica del Paese. Si pongono le basi per un più stringente adeguamento al contesto tecnologico e una rafforzata aderenza alla mission del servizio pubblico e al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge. Per fare ciò, la concessionaria del servizio pubblico, come previsto dal contratto di servizi, deve porre al centro il superato e il potenziamento dell'offerta digitale, operando all'avanguardia nella sperimentazione e nell'uso delle nuove tecnologie, blockchain, intelligenza artificiale, internet delle cose, solo per citarne alcune, e assicurare un uso ottimale delle risorse frequenziali affinché gli impianti necessari all'esercizio dei servizi in concessione siano realizzati a regola d'arte con l'adozione di ogni perfezionamento consentito dal progresso tecnologico. La realizzazione dei nuovi multiplex DVB-T2, anche in un'ottica di revisione dello spettro radiofrequenziale assegnabile ai servizi radio-televisivi per lo sviluppo delle reti 5G, dovrà essere pertanto improntata al principio dell'uso efficiente dello spettro, della tutela, della concorrenza, del pluralismo dei contenuti e della minimizzazione dei costi e impatti sugli utenti finali. Sul punto, l'impegno del Ministero in questi primi mesi di attività è stato improntato a perseguire gli obiettivi indicati dalla normativa vigente, uso efficiente dello spettro, salvaguardia del pluralismo nazionale e locale, minimizzazione degli impatti sull'utenza nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei. Su questo punto, il tavolo di coordinamento TV 4.0 istituito con mio decreto che vede la partecipazione con tutti gli attori pubblici e privati coinvolti nelle attività di rilascio e la banda 700 MHz, ha come obiettivo immediato individuare soluzioni tecniche che consentano un'efficacia e ordinata evoluzione del sistema radio-televisivo. Con riferimento alla RAI, la legge di bilancio del 2018 ha previsto la pianificazione e realizzazione in banda terza VHF di un multiplex per la trasmissione dell'informazione regionale. Realizzazione del multiplex che avrebbe comportato da un lato la necessità per gli utenti in ampie zone del Paese di cambiare le antenne per ricevere il segnale e dall'altro di un ingente sborso di risorse pubbliche da parte di RAI. Come noto, all'esito della prima fase del tavolo TV 4.0 è emerso il convincimento del Governo, che verrà tradotto in un emendamento alla legge di bilancio che presenteremo al Senato, di superare questo profilo di importante criticità prevedendo la destinazione della banda terza VHF prioritariamente per la radio digitale e per il MUX RAI in UHF. Ciò al fine di assicurare un più efficiente uso dello spettro, minimizzare costi e disagi e garantire una migliore ricevibilità del segnale da parte dei cittadini nonché di garantire un intervento sulle reti RAI di minore impatto anche finanziario. Un intervento importante che vedrà la RAI impegnata in prima fila tanto nella realizzazione della rete quanto sul tema radio digitale. Una tecnologia quest'ultima nella quale crediamo molto quella della radio digitale è che per la prima volta dopo anni di buoni propositi mai tradotti in norme avrà le risorse necessarie per svilupparsi. Le disposizioni del contratto di servizio come ben saprete prevedono l'istituzione di due commissioni paritetiche. La prima commissione è prevista dall'articolo 22 con l'obiettivo di definire le più efficaci modalità operative di applicazione e di sviluppo delle attività e degli obblighi previsti nel contratto in coerenza con l'evoluzione dello scenario di riferimento. Nonché gli opportuni interventi volti a risolvere difficoltà di applicazione e di interpretazione eventualmente emergenti. La commissione ex articolo 22 ha iniziato le proprie attività nel mese di settembre e si riunisce con cadenza mensile incentrando la propria attività sulla ricognizione dei diversi adempimenti previsti dal contratto con evidenza delle relative tempistiche di attuazione da parte della RAI. La prossima riunione della commissione è fissata per il 18 dicembre. Nella prima riunione della commissione è stata deliberata la rimodulazione di alcune scadenze previste dal contratto di servizio in modo da consentire al nuovo management più agevole definizione e adeguata valutazione dei piani di rilevante complessità strategica destinati a delineare il futuro del servizio pubblico. La seconda commissione invece prevista dall'articolo 25,3 del contratto di servizio ha il mandato di elaborare le linee guida operative che dovranno ispirare le intese con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative che la RAI deve definire con riferimento alla durata e ambito dei diritti di sfruttamento radiofonico televisivo e multimediale. La citata commissione i cui lavori hanno avuto inizio lo scorso mese di ottobre ha condiviso la definizione di un percorso complessivo da concludersi entro i primi mesi del 2019 che prevede altresì in un approccio più ampio e inclusivo allo studio del tema in cui i lavori della commissione si iscrivono di effettuare una ricognizione che attenga in particolare a aspetti per condurre una più compiuta analisi del mercato e del settore di riferimento strategico per il paese. La commissione ha reputato utile acquisire il punto di vista di soggetti anche terzi rispetto all'effettivo output dei propri lavori che si ricorda avrà per oggetto esclusivamente la negoziazione condotta nell'ambito del servizio pubblico radio televisivo italiano. L'idea è che le linee guida in via di elaborazione possano rappresentare un modello da seguire per il mercato di riferimento. Per questi motivi si è tenuto un ciclo di audizioni che ha coinvolto gli stakeholder sentendo in un'ottica di massima apertura gli autori i produttori gli altri broadcaster e anche gli operatori over the top i cosiddetti OTT per poter approfondire maggiormente le dinamiche del mercato e le diverse prospettive evolutive che lo caratterizzano. Le audizioni sono in corso e le linee guida prima della formale approvazione saranno sottoposte ad una consultazione pubblica in un'ottica di trasparenza ed apertura. L'aggiornamento sui lavori della richiamata commissione mi consente qualche considerazione sul mercato della produzione audiovisiva in Italia. Si tratta di un settore strategico nel quale la RAI gioca un ruolo determinante investendo ingenti risorse finanziarie. Come Ministero abbiamo avviato proprio nella giornata di ieri un tavolo con il MIBAC per un confronto con tutti gli operatori interessati dall'implementazione delle previsioni della nuova legge cinema. Penso che si debba intervenire per assicurare un level playing field tra tutti gli operatori la valorizzazione delle società di produzione più innovative e che guardano al mercato internazionale e evitare di ingabbiare eccessivamente i broadcaster e quindi anche la RAI con sistemi rigidi di quote e sottocuote di programmazione che rischiano di trasformare il legislatore in vero arbitro del palinsesto. Quindi tutela della produzione audiovisiva italiana senza per questo rendere il nostro paese meno attrattivo in termini di offerta di contenuti varietà e qualità degli stessi. E su questo fronte anche la RAI può fare molto assicurando il pluralismo e la varietà nelle produzioni e coproduzioni nella fiction e nel cinema. Un altro tema di particolare rilevanza è il potenziamento della fruibilità dell'offerta da parte delle persone con disabilità che costituisce uno dei principi generali riportati nel relativo articolo 2 del contratto di servizi alla lettera 1. Il successivo articolo 5 prevede poi alla lettera E che la RAI si adopererà per rendere la propria offerta multimediale sempre più fruibile dagli utenti con disabilità secondo gli standard prevalenti nel settore. L'articolo 10 rispone che la RAI è tenuta ad assicurare l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di disabilità sensoriali a dedicare particolare attenzione alla promozione culturale per l'integrazione delle persone disabili e per il superamento dell'handicap. La previsione di obblighi meramente quantitativi e non di monitoraggio dei livelli qualitativi rischiano di non mostrarsi efficaci nel raggiungimento degli obiettivi e in termini di esigenza e inclusione tuttavia le previsioni del contratto saranno rafforzate nella loro effettività dal lavoro dell'istituendo comitato di confronto in base all'articolo 23 il quale fungerà da sede permanente di confronto tra il ministero e la RAI si tratta di un organo con carattere consultivo col compito di esprimere pareri e avanzare proposte in ordine alla programmazione sociale e le iniziative assunte dalla RAI nelle materie di quell'articolo 10 il comitato è in via di definizione con riferimento all'effettiva composizione e sarà cura del MISE dare impulso alle attività non appena i rappresentanti saranno individuati e comunicati dalle amministrazioni associazioni e organizzazioni coinvolte grande attenzione quindi per la RAI con un approccio che sto e stiamo seguendo nell'esercizio del nostro mandato attento ad assicurare l'indipendenza della stessa attento ad assicurare che la RAI rispetti quanto previsto nel contratto di servizi a tutela in primo luogo degli utenti e altrettanto attento a garantire che la RAI abbia nel governo un interlocutore importante nel rispetto alle dinamiche di mercato in un momento di grande trasformazione che come tutte le trasformazioni porta con sé grandi opportunità ma altrettanti rischi se non ben governato e orientato grazie presidente grazie ministro allora apriamo gli interventi avevamo una richiesta non devo le ruggeri grazie presidente grazie ministro per essere venuto qui da noi oggi io sarò abbastanza breve volevo sapere da lei ministro se volesse cogliere un'opportunità oggi cioè se si sentisse di rassicurare diciamo un pubblico abbastanza largo di giornalisti RAI circa 1800 che credo vista la sua posizione oggettiva possano essersi sentiti un po' intimiditi nel definirsi nell'essere definiti a lei infimi sciacalli nell'occasione diciamo che riguardava la trattazione della cronaca da parte di alcuni di loro della vicenda giudiziaria che ha riguardato e riguarda la sindaca di Roma Raggi allora io credo che per quanto sia noto tutto sommato che a voi le vicende giudiziarie vi lasciano abbastanza indifferenti però obiettivamente questa possa essere un'occasione ghiotta per lei per assicurare appunto la platea di 1800 giornalisti infimi sciacalli che lavorano alla RAI l'altra osservazione che vorrei farle è non crede che tutto sommato potremmo mettere non dico per iscritto ma insomma un impegno serio da rivolgere all'azienda per cui istituiamo obbligatoriamente un contraddittorio politico per ogni volta che un politico va in televisione c'è deve essere un altro penso la trasmissione approfondimento che possa contraddirne il punto di vista questo a favore ovviamente di chi guarda da casa dell'informazione questo riguarderebbe ovviamente tutta anche la comunicazione istituzionale capisco che ci possano essere delle eccezioni però tutto sommato non sarebbe male se tutti insieme decidessimo che per ogni volta che anche un ministro va in televisione ci sia qualcuno dell'opposizione insomma che possa diciamo favorire quel contraddittorio a vantaggio di chi ascolta da casa l'ultima osservazione che mi sento di farle vista diciamo la delega anche sulle telecomunicazioni lei giustamente nella sua relazione parla di media company sacro santo io non credo che sia solo la RAI che si meriti diciamo questa giusta aggettivazione ma obiettivamente anche ormai il mondo dei social network in particolare facebook sfrutto l'occasione visto che non abbiamo motivi di contatto diciamo frequente per rivolgerle una proposta lei sarebbe d'accordo col fatto che facebook instagram twitter in quanto media company ormai perché veicolano effettivamente contenuti informativi specialmente abbiano l'obbligo di agganciare a ogni profilo social un codice fiscale in modo tale da mantenere per tutti la libertà di comunicare quello che si vuole ma contestualmente anche la responsabilità di quello che si spaccia in giro per vero verosimile la ringrazio e le auguro buon lavoro adesso seguiamo l'ordine consueto onorevole fornaro grazie presidente grazie signor ministro una breve osservazione mi ha molto colpito che nel suo intervento non non sia stato citato io credo un caposaldo del ruolo della RAI anche per la sua funzione in una democrazia cioè il pluralismo dell'informazione ma sono certo che nella replica lei non avrà problemi a risottolineare questo ruolo che è un ruolo assolutamente a nostro giudizio fondamentale e quindi anche il tema del rispetto diciamo del pluralismo politico l'alfabetizzazione digitale come lei ha ricordato ma anche una campagna io credo seria che vada fatta contro l'inquinamento di notizie false e dei veleni che sono sparsi ovunque le cosiddette fake news e credo che pensare ad un ruolo della RAI in questo compito di pulizia per consentire all'opinione pubblica di potersi esprimere sulla base di dati reali e non su dati falsi potrebbe essere importante ultima osservazione signor Ministro lei ha giustamente ricordato quello che è stato un obiettivo del lavoro della commissione di vigilanza della diciassettesima legislatura una battaglia affinché nel contratto di servizio venesse individuato l'obiettivo del 100% di popolazione raggiunta dal segnale RAI lei credo sappia che siamo molto lontani da quell'obiettivo e quindi vorremmo diciamo uscire da una logica di enunciazione di principio che ogni qualvolta viene un interlocutore viene ribadita lo aveva fatto anche l'amministratore delegato Salini vorremmo capire se si può avere un piano di azione su cui la commissione di vigilanza possa periodicamente con cui la commissione possa periodicamente interloquire per valutare gli stati avanzamento lavori perché altrimenti rischia di essere un obiettivo assolutamente condiviso ma che rimane sulla carta ultima cosa all'interno del problema del segnale la ricezione del segnale non è uniforme questo problema non è uniforme su tutto il territorio nazionale ci sono alcuni territori particolarmente penalizzati credo che non sia stato ancora risolto un problema di interferenze per esempio al confine tra Lombardia e Piemonte che non consente la ricezione corretta del segnale a oltre 600.000 piemontesi quindi crediamo che da questo punto di vista ci sia una questione aperta così come vorremmo capire come si pensa di risolvere il problema di ricezione al 100% nei territori montani e se la soluzione che era stata prospettata cioè quella sostanzialmente di arrivarci via satellite possa essere perseguita ovviamente con agevolazioni nei confronti degli utenti rispetto all'acquisto del relativo decoder e della scheda per poter avere la ricezione noi crediamo che questa sia una questione di democrazia che oggi abbiamo nel 2018 cittadini di serie A e cittadini di serie B che pagano la stessa cifra di canone esattamente uguale ma che hanno un'offerta del servizio RAI non leggermente limitata ci sono territori ampi di questo paese che sostanzialmente vedono solo il MUX1 cioè primo secondo terzo e RAI News e quindi non vedono tutto il resto del bouquet quindi su questo quello che le chiedo è fermo restando l'obiettivo che è assolutamente condiviso come si riesce e che scaletta di tempi ci possiamo dare affinché questo obiettivo diventi una realtà per i cittadini utenti del servizio pubblico abbiamo le richieste e l'ordine dei gruppi l'onorevole Mollicone di Fratelli d'Italia a caldo salve ministro allora lei è qui ovviamente come rappresentante del MISE ma in realtà sappiamo che ha più cariche quindi la mia domanda sarà duplice duplice aspetto la prima è su ci interessa molto sapere la parte riguardo prevista dalla convenzione al punto T sullo sviluppo tecnologico che un po' anche a quello si ricollega all'intervento dei colleghi e in particolare quale sarà l'impegno e l'investimento della RAI sia come indirizzo previsto appunto dalla convenzione sulla creazione di nuovi format di diffusione del superamento del digital device e anche dal punto di vista proprio infrastrutturale la coinvolge poi un altro aspetto che è quello appunto delle cosiddette coperture delle zone bianche e che può con le nuove tecnologie anche essere coperta dall'ultra banda che sappiamo essere in corso di realizzazione ci dice il sito ufficiale del consorzio che entro il 2020 sarà coperto il 100% delle aree diciamo più periferiche ora su questo visto lo sviluppo che ci hanno prospettato anche gli altri rappresentanti sia governativi sia della RAI stessa rispetto a una cross-medialità e a un maggiore uso dell'innovazione digitale credo che questi due sviluppi questi due temi procedano parallelamente lei un po' li rappresenta tutti e due quindi anche avere su questo capire qual è l'impegno del governo rispetto appunto quindi anche al potenziamento di quella che è una delle la maggiore società portatrice potenzialmente di innovazione digitale e tecnologica l'altra domanda invece più come si dice analogica e riguarda invece l'altro suo vestito che è quello anche delle questioni del lavoro sappiamo è stato evidenziato evidenziato in altre audizioni anche con il ministro Tria e con i responsabili della RAI il problema del precariato invisibile che c'è in RAI con le partite IVA che non vengono ovviamente messe in regola e poi la famosa gradatoria che rimane ancora così sospesa sono stati fatti vaghi impegni vaghi prese di diciamo di responsabilità da parte del governo volevamo sapere se c'erano degli aggiornamenti su questo grazie mi aveva chiesto un anticipo l'onorevole Capitanio se è possibile va bene grazie grazie presidente buongiorno ministro inizio solo con una battuta riferita all'amico Ruggeri che scopro con piacere che anche Forza Italia diventa favorevole ai contraddittori in tv però credo che quanto al rispetto del pluralismo anche le recenti nomine che hanno spazzato via definitivamente l'epoca della lottizzazione dando grande spazio anche a professionalità che appartengono al mondo del centro-sinistra credo che siano la risposta più chiara a quella che vuole essere la RAI del cambiamento e a proposito di cambiamento mi permetto di insistere sulla necessità di coniugare la spinta a livello di innovazione che stiamo portando avanti anche con lo sviluppo della rete unica per lo sviluppo della banda ultralarga a una connessione diretta con quelle che possono essere i palinsesti i programmi della televisione siamo in una nazione dove solo 3 milioni di cittadini è dotato di identità digitale quindi credo che la rivoluzione e l'innovazione del paese debbano passare necessariamente per un servizio che spieghi anche ai nostri cittadini cos'è il 5G cos'è la blockchain e questa rivoluzione deve essere accompagnata ovviamente con la possibilità che tutti i cittadini finalmente siano raggiunti non solo dalla banda ultralarga ma dal servizio televisivo quanto alla introduzione di un canale d'inglese questo è fondamentale non deve essere ovviamente uno strumento per insegnare la lingua quello che ci dovrebbe pensare poi soprattutto la scuola ma speriamo che serva soprattutto per trasmettere all'Europa in questa fase delicata l'immagine reale del nostro paese poi chiediamo ovviamente l'abbiamo ribadito anche in occasione delle altre audizioni un'attenzione particolare al territorio dobbiamo guardare all'Europa dobbiamo guardare all'intero sistema nazionale però abbiamo bisogno di raccontare anche potenziando le sedi dando maggiore attenzione per gli insesti regionali il racconto del nostro territorio che poi è la base fondante del nostro tessuto socio economico e in questo ovviamente bisogna forse anche ripensare e potenziare il ruolo di Milano non solo come fonte di informazione quindi potenziando le redazioni a partire da quella del Tg2 ma dandole magari anche un ruolo nuovo nella formazione dei giornalisti nella formazione ovviamente riallacciandomi anche al suo ruolo di ministro del lavoro chiediamo nel rispetto delle regole scritte nei concorsi che ci sono stati un'attenzione ai tanti giornalisti che si trovano in condizione borderline di graduatori ma anche di sostenere la spinta all'ingresso di nuovi giovani nel sistema radio televisivo con nuove competenze perché ovviamente è fondamentale che i nuovi giornalisti parlino il linguaggio del giornalismo moderno grazie grazie allora andiamo la parola agli esperienti del partito democratico cominciando la nondevole Giacomelli grazie presidente io sono molto grato al ministro Di Maio che ha trovato il tempo di rispondere tempestivamente alla richiesta di incontro avanzata da luglio da questa commissione e per esprimere la mia gratitudine evito di riprendere il filo avanzato al collega Ruggeri e di chiedere magari delucidazioni sull'idea di libertà di stampa e di pluralismo che hanno diversi esponenti del governo o sulle uscite periodiche del sottosegretario Crimi rispetto all'idea del sostegno all'informazione invece mi concentrerei su tre punti con tre domande la prima io ho qualche dubbio sul cambiamento effettuato rispetto al VHF alla banda terza e a quant'altro ho la sensazione che si sia accolto più qualche timore della parte tecnica del servizio pubblico che punta alla conservazione più che all'uso efficiente dello spettro che invece a me troverebbe molto d'accordo credo che i due obiettivi cioè cambiare rivedere il punto del VHF e l'uso efficiente dello spettro siano in contrasto però lo vedremo col tempo insomma non voglio partire da un giudizio pregiudiziale semmai vorrei chiedere se l'ipotesi di cui si è parlato di una modifica che riguardi il superamento del terzo riservato alle emittenti locali un miglioramento del rapporto di conversione per tutte le emittenti nazionali una ridefinizione in questo senso se troverà spazio e come nelle ipotesi di modifica della legge di bilancio di queste ore il secondo argomento è stragettito lei sa che con il canone in bolletta si è recuperato il 30% insomma la quota che è dell'evasione del canone lei sa bene che in ogni governo diciamo c'è una dialettica tra il MEF e il resto del governo è fisiologico al di là delle parti politiche in quel caso il MEF coniò la definizione per il recupero di evasione di è stragettito che è a mio avviso un eologismo giuridico singolare però accadde così questo naturalmente aveva un valore per il primo triennio perché c'era l'incertezza sul quantum ora il primo triennio è scaduto quindi anche io spero la definizione giuridica drammatica di extragettito spero che sia scaduta con il primo triennio se è così tutto il gettito andrà a RAI e se tutto il gettito va a RAI interveniamo sul rapporto tra canone e pubblicità e l'approfittiamo per un ragionamento nuovo sulla pubblicità che riguarda anche il ruolo degli OTT e quant'altro oppure se ancora l'estragettito viene utilizzato dal governo peraltro altri scopi istituzionali diversi da quelli di RAI perché togliere il collegamento e il sostegno al fondo per il pluralismo e gli emittenti locali delle due l'una vorrei capire qual è la strada scelta e a proposito di pubblicità il governo intende intervenire sui diritti di negoziazione dei centri media che sono probabilmente uno dei veri effettivi problemi dell'ingessamento di questo mercato infine l'ultimo punto d'accordo lo dico sinceramente nel superare alcune rigidità che anch'io giudico eccessiva della norma sulle produzioni quote e sotto quote dei palinsesti sono d'accordo semmai domando ma qui non c'è un ruolo che il RAI può giocare noi abbiamo provato a delinearlo appena nel contratto di servizio ma forse questo governo può andare anche oltre nel ruolo che il RAI può giocare nel sostegno ai format originali italiani alle produzioni di format originali e non all'acquisto di format esteri alle produzioni indipendenti italiane che rischiano tutte di essere più o meno prede di multinazionali di vario segno su questo c'è un disegno un progetto del governo grazie sempre il partito democratico senatore margiotto due domande rapidissime piano editoriale nella scorsa legislatura presidente di maio più volte abbiamo in questa commissione valutato l'importanza che l'informazione fosse trattata dalla RAI in modo assolutamente differente demmo un parere positivo sostanzialmente pur con qualche osservazione del piano gubitosi poi cambiò il direttore generale e non fece a tempo a presentarci una ipotesi convincente poi è ricambiato adesso c'è una previsione chiarissima nel contratto che il Mise ha firmato con l'azienda e cioè che entro x mesi che sono già stati naturalmente superati e prorogati l'azienda ci presentasse un nuovo piano per come riorganizzare nel rispetto naturalmente del pluralismo l'offerta informativa della RAI essendo l'informazione come ci spiegava la BBC tanti anni fa uno dei tre pilastri di un'azienda pubblica vorrei sapere se anche per il Mise questo è uno delle prime incombenze che il nuovo assetto che governa la RAI deve affrontare e se lei ritiene di seguirlo con la forza che un Ministro Vicepresidente del Consiglio ha anche in connessione di questo argomento ho posto già e ripongo qua a ragione il collega anche guardando a lei come Ministro del Lavoro la questione dell'accesso dei giovani alla professione in RAI io insisto molto sulla scuola di Perugia la scuola di Perugia i ragazzi entrano dopo un concorso molto duro sono formati anche con soldi dell'azienda sarebbe un peccato non poterli mettere nella vita lavorativa dell'azienda medesima altrimenti non si capirebbe perché la RAI debba continuare a tenere una scuola con propri fondi si capisco che non tutti sono d'accordo però mi faccia finire vorrei capire se questa posizione se questa mia idea è condivisa tenendo anche conto che se si vuole rilanciare la cosiddetta piattaforma web e l'informazione sul web non si può non fare affidamento su persone che hanno per anagrafe per voglia di fare per energie caratteristiche differenti da molti dei professionisti che già lavorano in RAI senatore Verducci grazie presidente signor ministro lei ha citato nel suo intervento naturalmente il contratto di servizio lei sa che ci abbiamo molto lavorato nella scorsa legislatura quello è un piano di riferimento importantissimo noi del partito democratico abbiamo molto insistito affinché dentro quel piano di servizio ci fosse una parte importante innovativa che mai prima c'era stata che riguarda il lavoro in RAI la valorizzazione delle professionalità e soprattutto un piano che contrasti il precariato da questo punto di vista molto si sta facendo proprio in queste ore anche per assorbire la gran massa di atipici e di autonomi e per mettere in sicurezza queste professionalità ci aspettiamo da lei non solo un monitoraggio ma un lavoro molto attivo su questo fronte devo dire signor Ministro che da questo punto di vista però siamo preoccupati perché le parole che lei ha usato sia negli anni precedenti sia adesso anche da Ministro nei confronti dell'azienda quando lei era Ministro e quindi Vice Presidente del Consiglio e quindi uno dei membri più autorevoli di questo governo lei ha usato parole sprezzanti nei confronti dei lavoratori della RAI parassiti raccomandati con un qualunquismo inaccettabile perché non si può trattare chi lavora in RAI in questo modo soprattutto creando anche un clima contro l'azienda contro anche chi ci lavora e contro i giornalisti fa da contrapunto a questa sua presa di posizione anche parole inaccettabili e irripetibili che lei ha usato nei confronti dei giornalisti dei giornalisti nel nostro paese addirittura arrivando ad auspicare che alcuni giornali che la criticano possono versare in cattive condizioni o addirittura chiudere e queste non sono battute perché noi abbiamo assistito a delle battute come quelle che sembravano battute quelle di Beppe Grillo quest'estate chiuderemo i giornali e poi però ci troviamo invece ad una volontà di un azzeramento del fondo per il pluralismo dell'editoria che è fondamentale per invece il pluralismo l'autonomia di tantissime voci soprattutto locali che altrimenti non potrebbero vivere tutto questo ci preoccupa signor Ministro lei ha detto solamente pochi giorni fa intervistato alla 7 la nostra sfida più grande è mettere le mani sulla RAI testuale intervistato da Giletti signor Ministro e evidentemente questa sfida di mettere le mani sulla RAI sta funzionando visto che i dati che noi abbiamo che riguardano in rete la visibilità l'esposizione delle forze di governo è pari al 64% quindi è assolutamente abnorme tutto questo è molto preoccupante così come vorrei sapere qual è la sua opinione su un dato per noi non solo preoccupante ma la la nomina di FOA a presidente della RAI che noi riteniamo assolutamente illegittima lei sa che c'è una lettera di molti parlamentari europei trasversale al presidente del Parlamento europeo Tagliani perché FOA per aver diffuso informazioni online assimilabili in tutto e per tutto a disinformazione a manipolazione della corretta informazione va contro gli standard di quella che sono la libertà di informazione così come è codificata voglio sapere da lei se trova compatibile la presidenza di FOA capo della più grande agenzia di informazione del paese con quel piano contro le fake news che noi abbiamo messo nero su bianco sul contratto di servizio e da ultimo davvero sempre qualche tempo fa il fondatore del suo partito Beppe Grillo disse come già molti anni addietro ebbe a dire Berlusconi due reti della RAI sono da privatizzare per noi questa sarebbe assolutamente una sciagura per noi è da rilanciare il servizio pubblico altro che privatizzazione vorrei sapere lei come la pensa in merito grazie grazie il senatore Verducci onorevole Anzaldi grazie presidente grazie ministro anch'io come i miei colleghi siamo molto contenti che il ministro ha citato la prima applicazione del rinnovo del contratto di servizio però io temo che il ministro abbia abbia fatto la sua relazione su un testo datato perché quel contratto di servizio ieri è stato letteralmente maltrattato stracciato vede il contratto di servizio alla base noi ci abbiamo lavorato molto in questa commissione e anche col suo collega di partito attuale presidente della Camera il presidente Fico che è stato presidente della commissione di vigilanza ci abbiamo lavorato molto e prevede innanzitutto un piano industriale poi un piano editoriale e un piano di riforma delle reti questo è evitare gli sprechi è evitare quello che tutti insieme abbiamo condannato quella pletora di microfoni che potrebbero avere tutti la stessa frase a seguito del politico all'estero tutto questo era fatto per ridurre tutte queste tre cose piano industriale piano editoriale riforme delle reti ancora la RAI non le ha fatte ha chiesto addirittura una proroga che sta per scadere quindi dovrebbe essere in grande emergenza su queste cose non ha fatto nulla anzi ha invertito le cose e ha stracciato le direttive che dà il contratto di servizio ieri ha fatto una caterba di nomine mai viste prima siamo arrivati a 29 vice direttori ben due in più addirittura il Tg1 ne ha due in più si è arrivati a una nuova figura un condirettore cosa che non era mai avvenuta tutte queste cose sono violazione non solo del contratto di servizio ma anche del piano anticorruzione che prevede che per fare queste nomine bisogna fare un job posting tutte queste cose non sono state fatte queste si tradurranno in esposti ricorsi interni esposti anche da parte di forze politiche io penso che lo farò perché appunto sono delle violazioni di legge come le sto denunciando qui come faccio a non denunciarle fuori cioè un'azienda che ha dei problemi economici perché anche ieri ad esempio sono stati fatti dei grossi tagli alle reti per cercare di fare quadrare i conti cioè da una parte si leva alle reti che sono quelle che dovrebbero fare informazione che anche lei nel suo intervento ha ricordato che la RAI deve fare informazione poi dove la fa come la fa non si capisce perché oggi i dibattiti politici come hanno ricordato i miei colleghi stanno su altre reti sulla SET o su altri canali purtroppo la RAI ha solo una prima serata di politica ed sta su rete 3 e con delle lacune che io spesso ho denunciato quindi a me fa piacere le cose che lei dice però nella realtà queste cose non le riscontriamo e allora volevo capire da lei che cosa cosa intende fare per passare appunto dalle enunciazioni ai fatti perché per adesso vediamo che si va in direzione opposta grazie donna Valanzaldi aveva chiesto di intervenire anche la senatrice De Pedris sì grazie io torno un attimo sulla questione diciamo del necessità e della garanzia appunto che di assicurare la ricezione del segnale e quindi la copertura al 100% su tutto il territorio nazionale anche e siccome tra l'altro è un compito specifico che il contratto di servizio ha affidato all'azienda dove si dice testualmente la diffusione di tutti i contenuti audiovisivi del pubblico servizio della società concessionaria assicurando la recepibilità gratuita il segnale al 100% della popolazione volevo capire diciamo come lei intende diciamo esercitare il controllo su un piano di investimenti che sia realistico perché arrivano tutti qui dicono sempre la stessa cosa che si impegnano ma poi i problemi continuano a essere in una parte del paese in molte parti del paese non indifferenti ed è un problema di diritto e quindi anche di uguaglianza soprattutto anche nelle aree interne nelle aree di montagna anche perché come diceva anche il mio collega Fornaro tutti con il nuovo sistema tutti pagano diciamo quindi forse dovrebbero avere la possibilità di avere il servizio seconda questione che riguarda la questione diciamo del pluralismo non è le cose non sono scollegate ministro cioè rilanciare e valorizzare e vedremo come diciamo il ruolo del servizio pubblico come perno fondamentale e anche io penso anche promotore ancora di più del pluralismo con le altre iniziative che state prendendo per quanto riguarda diciamo la questione diciamo dei giornali del fondo del pluralismo che è le questioni sono strettamente connesse perché il ruolo del servizio pubblico il ruolo della RAI è fondamentale e può diventare anche anche ancor più di stimolatore in un sistema in cui anche gli altri media diciamo e anche soprattutto i giornali i piccoli giornali e le esperienze anche indipendenti che rischiano di morire definitivamente continuano a vivere e a proposito di questo siccome noi come tutti i settori italiani i settori produttivi possiamo reggere la competizione solo e unicamente se puntiamo sulla qualità questo vale anche i settori diciamo produttivi classici dal primario al secondario ma ancor di più io penso vale per la RAI stessa e per il servizio pubblico e quindi a maggior ragione io credo che noi dovremmo ancor di più investire non so cosa lei ne pensa glielo chiedo espressamente nel ruolo anche diciamo di produzione culturale della RAI stessa dal cinema alla fiction e anche di possibilità di costruire di sostenere anche diciamo tutte le produzioni indipendenti perché questo ci permette lo diceva anche prima Giacomeli ci permetterebbe davvero diciamo di reggere come sistema Italia come produttori anche culturali diciamo una competizione la competizione tra l'altro la RAI dovrebbe potrebbe sia per quanto riguarda il pluralismo io credo e sia per quanto riguarda la produzione diciamo culturale tornare a essere in qualche modo un punto di riferimento vero serio diciamo e su quello diciamo costruire la possibilità anche di stare di competere e solo e unicamente sulla qualità abbiamo visto anche anche recentemente su alcune produzioni fiction italiane si regge si hanno anche ascolti significativi perché perché si punta sulla qualità e non esiste la concorrenza a quel punto viene spazzata via perché si è costruito diciamo un prodotto altamente altamente qualificato stessa cosa io credo diciamo per il ruolo anche di contro le fake news una volta si diceva l'ha detto il telegiornale una volta ma come dire quando ero piccolo io no cioè quando lo diceva il telegiornale era come dire era effettivamente oggi l'utente i cittadini sono diciamo costernati a dir poco quindi io credo che invece questo dovrebbe essere tornare a essere in qualche modo non la Bibbia ma insomma il ruolo del servizio pubblico quasi diciamo come bollinatore diciamo delle notizie tra il vero e il falso grazie e avevamo il senatore Gasparri sì io mi attirò a temi che possono essere di competenza del ministero perché su altre questioni più strettamente riguardanti il pluralismo credo che siano altre le sedi e le competenze della commissione voglio anche dire a chi è prima replicato all'intervento del donorevole Ruggeri che ha replicato in maniera impropria perché Ruggeri ha rilevato il fatto che alcuni soprattutto esponenti di governo rifugono dai confronti e dal contraddittorio con ahimè troppi conduttori di televisioni pubbliche e private perché da questo punto di vista i partecipanti alla gara sono innumerevoli ma noi qui ci occupiamo di Rai come dire accettano questo tipo di prassi non ci si riferia a nomi o altre cose che anche in altre epoche per esempio per alcune testate tradizionalmente diciamo nell'albero della sinistra furono più che rispettate nella loro identità io voglio solo richiamare un problema che riguarda degli aspetti diciamo economico-gestionali c'è una discussione all'internazionale anche nel Parlamento Europeo sul diritto d'autore sui contenuti che riguarda anche gli oper dei top che sono stati citati nella relazione c'è un saccheggio di contenuti e la direttiva che l'Europa sta discutendo e che mi pare che gli esponenti del partito del ministro invece contestano vuole affermare il fatto che la proprietà intellettuale va tutelata non si può prendere qualsiasi contenuto gratuitamente questo riguarda i giornali la musica le televisioni pubbliche e private gli oper dei top non pagano sostanzialmente tasse ogni tanto concordano qualche sanzione fiscale perché i vantaggi che hanno sono tali che anche le periodiche multe che anche l'Italia combina sono poi un valore infinitesimale questo tema va affrontato e la linea che gli operanti della sua area esprimono è per il saccheggio digitale non per il rispetto del diritto d'autore e comunque sono connessi i temi fiscali rubano i contenuti e non pagano tasse i giganti ora vedo un servilismo del suo gruppo e quindi del governo nei confronti di questi potentati e connesso a questo tema c'è un tema di mercato sempre che è quello della pubblicità io ritengo l'abbiamo posto anche al nuovo amministratore delegato della RAI che ci ha dato risposte rassicuranti ma i fatti non sembrano confortare questi dati che la RAI stia facendo un dumping pubblicitario nel senso che a volte nel passato ha venduto 10 spot al prezzo di 1 non uno sconto cioè lo sconto no uno al prezzo cioè 10 al prezzo di 1 e concorrenza stale considerato che la RAI ha il carone in bollette eccetera eccetera da alcuni anni quindi ha avuto una maggiore certezza di introiti deve assolvere le funzioni del contratto di servizio servizio pubblico e quant'altro noi riteniamo che su questi due temi saccheggio di contenuti è quindi il tema che investe anche la RAI ma tutto il sistema della comunicazione quindi equilibrio fiscale anche a carico dei giganti della rete nei confronti questo governo ha un atteggiamento di servilismo e il tema del dumping sul mercato pubblicitario interno da parte della RAI che ha avuto garanzie ampie sul carone si debba agire con più determinazione e chiediamo quindi al ministero di farlo perché riteniamo che sia una sua competenza buongiorno ministro colgo l'occasione della sua presenza per farle tre domande brevemente innanzitutto per ritornare a un tema nei confronti del quale ancora non abbiamo avuto risposte soddisfacenti da tempo si assiste a una vera e propria stortura secondo noi verso i cittadini contribuenti proprio e contribuenti alla sopravvivenza della RAI e mi riferisco nello specifico al programma al fatto che ancora non si sia arrivati e dunque non si sia dato rispetto all'applicazione del limite dei 240 mila euro annui alle star della tv pubblica rispetto al programma Che Tempo che fa di Anzonia di Fazio sappiamo anche che sappiamo perché mi pare di aver compreso che anche il governo attuale pure invocando i valori dell'onestà della trasparenza si stia muovendo poi di fatto sulla scia di quello precedente considerato che a settembre per quanto riguarda l'edizione del programma è stato siglato il contratto con appalto parziale con la società l'officina SRL per altri 4 anni altri 4 anni e al 50% in officina SRL è di proprietà di Fazio mentre l'altro 50% è di Magnolia quindi dire che è stato affidato in segni di appalto parziale al costo peraltro di più di 10 milioni e mezzo vuol dire che non ci sono state di fatto gare vere e proprie e lo stesso Cantone pare aver evidenziato elementi di criticità sia sul compenso al conduttore che sulla durata e soprattutto sul famoso contratto trasmettendo poi le carte alla Corte dei Conti ed è un'iniziativa che evidentemente non ha preoccupato i vertici della RAI sebbene appunto paia che in buona sostanza il cannone RAI sembra proprio servire per sostenere il programma di Fazio 10 milioni l'anno per 64 puntate più 2 milioni e mezzo quindi prima domanda ecco se il Ministro non ritengo pensi che questo fatto che il tetto di 240 mila euro si applichi al primo Presidente della Corte di Cassazione e non alle star della televisione mi sembra abbastanza particolare l'altra domanda che volevo porre era rispetto alle produzioni produzioni interne e produzioni esterne della RAI da quanto ci risulta molta buona parte delle produzioni della RAI vengono affidate all'esterno penso per esempio anche per fare una cosa molto semplice i programmi anche solo per la tv dei ragazzi RAI ragazzi per l'85% per il 95% ci affidiamo a produzioni esterne quindi alla luce invece del fatto che in questo caso mi rivolgo al Ministro del Lavoro che ci sono tanti ragazzi oggi che hanno sviluppato delle competenze professionali proprio su quei temi che le stava promuovendo quindi sul digitale e quant'altro non sarebbe in caso che internamente utilizzando da un lato valorizzando le competenze già presenti che possono essere dei formatori e dall'altro invece facendo entrare all'interno dell'azienda RAI che può diventare allora sia anche veramente un'azienda che contribuisce allo sviluppo e alla crescita del paese queste nuove professionalità e competenze e in ultima istanza volevo ricordare che è stato approvato in serie di discussioni di bilancio alla Camera un emendamento a firma di Forza Italia a firma del collega Brunetto rispetto alla proroga della convenzione del Ministero dello Sviluppo Economico con Radio Radicale ricordando che Radio Radicale svolge e ha sempre svolto un ruolo molto importante con numeri importanti e questo lo voglio sottolineare affinché il governo che pare non aver percepito effettivamente l'importanza e il valore di questo servizio lo possa invece fare proprio in maniera sentita e profonda grazie lei è sempre molto fiscale Presidente ma io sarò molto rapido uno vale uno le chiedo allora 30 secondi facciamo un minuto e 30 se lei è d'accordo ovviamente allora grazie Presidente mi atterrò quindi scrupulosamente ai fatti evitando qualsiasi tipo di considerazione come giusto che sia in questa sede il 19 giugno a Porta Porta e quindi nel pieno delle sue funzioni già di Ministro e Vice Premier lei ebbe dichiarare di voler avviare un censimento dei raccomandati in RAI dovendo cominciare a ristabilire il principio della meritocrazia e la domanda è se dopo sei mesi a che punto è questo censimento come lo sta effettuando con quali strutture come si le ha individuate se può dare alla Commissione elementi su questo censimento dei raccomandati che ha molto a che fare con la meritocrazia anche richiamata nel vostro contratto a proposito della RAI a proposito poi sempre invece di materia legata all'azienda è stato detto che ci sono troppi canali dall'altro azionista di maggioranza del governo il senatore Salvini il quale ha anche auspicato una rete senza alcun tipo di pubblicità in realtà già esiste ma questo non fa niente volevo chiederle se anche lei nella visione che ha della RAI prevede di smettere oppure di cambiare la linea di una rete avendola senza pubblicità o privandola della pubblicità o del canone a seconda dell'idea che ha ultima domanda a proposito della riduzione del canone visto che si parla di questo fondo dell'extragettito di cui hanno già accennato vari colleghi in particolare il presidente Giacomelli ed essendo previsto che questo fondo extragettito venga azzerato rispetto a quanto lei ha già dichiarato di qui al prossimo triennio nel 2020 le chiedo se questo porterà all'azzeramento del pluralismo quindi una sorta di ex pluribus unum quindi diventerà una voce unica oramai ma a parte quello se contemporaneamente prevedete una riduzione del canone in bolletta al momento che venendo meno di questi 180 milioni che costituiscono il 10% dell'incasso del canone se contemporaneamente allora ridurrete il canone grazie presidente grazie prima del gruppo del Movimento 5 Stelle c'era un intervento della Lega senatrice per Greffi buonasera intanto lo ringrazio il ministro di essere venuto qua soltanto un paio di appunti il primo è che quello come gruppo Lega noi ambiamo quello che è il pluralismo ci crediamo abbiamo presentato anche degli emendamenti su quello che è il fondo per il pluralismo dell'informazione rivedendo nei criteri perché magari sono da rivedere quelli che sono stati i criteri utilizzati in tutti questi anni per cui mi fa anche un po' sorridere sentir parlare qualche d'uno che è stato al governo fino a poco tempo fa di pluralismo all'interno dell'informazione televisiva quando in realtà i giornalisti che non erano allineati sono stati mandati fondamentalmente su altre reti quindi magari avremo ancora programmi in Rai in prima serata come Virus o l'Arena la domenica pomeriggio probabilmente che c'erano anche parecchi ascolti probabilmente le avremo ancora per cui mi fa un po' sorridere il fatto mancano i programmi di informazione politici in prima serata c'erano fino a poco tempo fa l'altra cosa che fa un po' sorridere sono le fake news la fake news più grossa che ho sentito dire qua dentro oggi è quella che Foa non è non è stato eletto democraticamente o che l'elezione non è legittima è un professionista serio è un professionista che sta dimostrando quello che sa fare ci sta vedendo all'interno di quello che è il sistema televisivo della Rai tutta la sua professionalità e per cui insomma mi sembra proprio una fake news quella che viene continuamente portata avanti come un mantra grazie per il gruppo il momento cipestile senatore Airola grazie di essere qua e allora una cosa che ci preoccupa è sicuramente intanto complimenti perché un contratto di servizio firmato è un grande risultato già che nella scorsa legislatura fino ad oggi andavamo avanti con quello del 2012 pur avendone fatti due di contratti di servizio dunque il nuovo contratto introduce due nuovi canali Rai International che deve essere un canale per estero per promuovere il made in Italy non un canale così si era deciso e lo voglio dibadire per italiani all'estero che poi sicuramente interesserà anche gli italiani all'estero il canale Rai di istituzione è tutto da costruire ora sicuramente si deve perché la Rai ha nelle varie incombenze tra cui quella della diffusione al 100% che è sicuramente importante varie spese a cui far fronte e rischia se in mancanza di una spending review in mancanza di una buona gestione dei soldi del patrimonio insomma che riceve tra pubblicità e sulli pubblici di star dietro alle cose che più o meno vengono formalizzate nel contratto di servizio una cosa su cui volevo porre l'attenzione sono le quote le quote sono sempre state in qualche modo violate erano state poste per dare degli indirizzi su appunto per esempio la predominanza della cultura nel servizio pubblico per esempio le quote sui documentari sono sempre state aggirate perché persino un reality poteva diventare un documentario ecco io stare attento a invece o ripristinarli in maniera seria o dare un indirizzo preciso alla RAI che già noi come Commissione abbiamo fatta di valorizzare gli aspetti culturali piuttosto che lo share e la rincorsa alla tv commerciale parlo in fretta perché non voglio togliere minuti ai miei colleghi quindi una cosa che abbiamo chiesto a Salini e ci ha garantito ma io credo che anche il Ministero debba assolutamente premere la trasparenza cioè vogliamo vedere in questo caso anche rispetto a quello che diceva la collega di Forza Italia i compensi e i soldi che vengono dati soprattutto alle grandi produzioni di fiction le conosciamo le P5 vogliamo sapere come vengono gestiti questi soldi attualmente sul sito RAI non esiste alcuna trasparenza in merito anche l'inquadramento sarebbe corretto che io ricordo alla collega che c'è una normativa di indirizzo che ha firmato questa commissione contro gli agenti esterni quindi già per Fazio ci dovrebbe pensare Salini a risolvere la questione e c'è anche la questione Vespa se per questo che si è fatto collocare come artista ma fa giornalista invece che prende 240.000 euro prende 1.8.000 quindi sulla questione dell'informazione e delle accuse che vengono fatte al Movimento 5 Stelle eccetera allora intanto voglio ricordare che da sempre in RAI ci sono stati sia da parte di Forza Italia che da parte del PD esponenti che andavano da soli non ho visto firmare il contratto di Berlusconi più due volte con un contraddittorio io credo che sia alla correttezza del conduttore del giornalista ma soprattutto tutto si potrebbe risolvere con un vero fact checking delle notizie cioè anche in un programma in cui c'è solo un esponente non c'è un contraddittorio il contraddittorio lo dovrebbe fare il giornalista basta avere un buon fact checking cosa che continua a non farsi un'ultima cosa d'accordissimo sui formati interni Giassalini l'ha preso come 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 buon buon consiglio insomma buon indirizzo di vigilanza Margiotta che parla della scuola di Perugia scusa Margiotta se mi intrometto ma l'accesso deve essere eco anche per chi ha avuto ha fatto un concorso quindi fondamentalmente le ultime due cose che vorrei chiedere è di stimolare un'attenzione per i vari centri di produzione tv che la RAIA e che producono e che possono fare format interni e non dimenticare come ha fatto giustamente lei la radio perché la radio è importante ascoltata da milioni di cittadini mi è giunto da poco Isoradio che insomma pare non essere condotta al meglio e poi ancora un appunto su la radio radicale RAI Parlamento noi avremo due canali uno istituzionale che spiegherà le istituzioni e una RAI Parlamento che ha lavorato sempre sotto tono rispetto a radio radicale cioè devo ammettere che la radio radicale era molto più presente allora se per caso adesso venissero tagliati i fondi a radio radicale RAI Parlamento deve potenziarsi e coprire esattamente tutte le attività del Parlamento e a governative della politica perché ultimamente RAI Parlamento non l'ha sempre fatto mio collega una sera mentre eravamo in audizione dell'allora direttore generale fece sentire RAI Parlamento che trasmetteva della musica ecco mentre c'era l'audizione in diretta quindi è importante è importante che si ci si concentri sul RAI Parlamento grazie a tutti grazie 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 presidente e grazie ministro per l'esaustiva audizione che oggi ha portato ponendo anche dei temi molto interessanti ma io vorrei porre l'accento su una dichiarazione che è stata fatta qui dall'amministratore delegato Salini che in audizione proprio qualche settimana fa ha detto che diventava critico per la RAI operare e portare a termine quelli che erano gli obiettivi del contratto di servizio quali il canale in inglese il canale senza pubblicità cose che tutti conosciamo senza un aumento delle risorse io vorrei chiedere cosa può fare cosa farà il suo di Castero in merito perché chiaramente Salini ha lanciato un grido di allarme che credo ci sia bisogno di a cui bisogna è necessario rispondere per quanto riguarda invece su altri temi quindi relativi alla ricezione e arresto io sono sono stata molto contenta quando è stato istituito il tavolo televisione 4.0 proprio al Mise dove finalmente è stato con i dovuti che i mesi di anticipo è stato affrontato sono stati affrontati dei temi importanti quali le frequenze e quali anche il passaggio dalla banda 700 da parte delle televisioni verso gli operatori telefonici che lo utilizzeranno per il 5G ecco in tal proposito io invece reputo molto importante il passaggio fatto dalla Rai in merito alla banda UHF perché qui in commissione ci lanza Rai come anche alcuni interventi hanno sottolineato si parla spesso di mancata ricezione dei canali dei canali Rai e io credo invece che le soluzioni portate a termine dal tavolo televisione 4.0 che spero si tradurranno in maniera molto celere in un emendamento magari in legge di bilancio anzi sicuramente in legge di bilancio porteranno anche a una maggiore sicurezza da parte dei cittadini della ricezione di canali Rai e soprattutto il canale che riguarda le televisioni regionali chiudo perché voglio lasciare la parola anche agli altri colleghi credo che abbiamo pochissimi minuti ci restano pochissimi minuti due minuti grazie vi invito a rispetto dei tempi anche per consentire una replica ampia al Ministro assolutamente la ringrazio Presidente sarò brevissimo ringrazio il Ministro Di Maio per l'ampia relazione che questa mattina ci ha offerto e che credo abbia affrontato tutte le tematiche più importanti che nelle sedute precedenti abbiamo affrontato in commissione e che credo siano anche i capisaldi di quel contratto di servizio signor Ministro che io l'ho riletto questa mattina e debbo dire l'ho riletto alla luce della discussione che pensavo sarebbe stata fatta oggi e l'ho trovato un documento davvero ben fatto perché dentro il contratto di servizio ci sono quei lineamenti del servizio pubblico che credo gli italiani attendono da troppi anni io le chiedo per essere breve signor Ministro di applicare finalmente quel contratto di servizio che non voglio con spirito polemico ricordare che tutto ciò che manca alla RAI di oggi sono le inadempienze per ciò che non è stato applicato su quel fronte le chiederò un impegno che è quello che sta come dire a monte di un efficiente servizio pubblico perché prima di fare cultura rinnovamenti e tutte le altre iniziative a partire dal canale in inglese e le altre cose di cui abbiamo parlato e che lei ci ha ricordato qui in Italia abbiamo il problema della copertura del segnale è stato già segnalato ma non potevo non ricordarlo come Movimento 5 Stelle va ricordato appunto perché è la precondizione perché gli italiani possano usufruire di questo servizio pubblico una sola annotazione perché sarebbe piaciuto anche a me signor Presidente rimanere sui temi tecnici di questa commissione però mi permetta di fare un'annotazione su le osservazioni critiche direi malevole ingenerose che sono state fatte ai richiami sul pluralismo sul rapporto con il mondo giornalistico che il Movimento 5 Stelle avrebbe e che sarebbe letale addirittura a questo punto mi pare di capire per la libertà di stampa un punto io voglio richiamare sull'elemento massimo sul momento massimo di polemica che c'è stata con il mondo dell'informazione voglio ricordare una cosa si parlava di un episodio specifico in cui una cittadina italiana incidentalmente sindaca era stata definita a livello etico e morale con le parole che tutti conoscete che giornali avevano scritto e a questa sindaca erano stati attribuiti comportamenti impropri come amministratrici tali da far apparire il comune di Roma amministrato dal Movimento 5 Stelle come un covo di malaffare come a tutti voi note come è noto ai cittadini che ci ascoltano niente è emerso sul punto sul comportamento di questo del sindaco di Roma che potesse giustificare quelle accuse quella campagna infame che è stata portata avanti un elemento voglio dire e lo voglio ricordare anche come giornalista c'è l'obbligo della rettifica ebbene quando anche si è arrivata a sentenza dai giornali che avevano scritto quelle falsità non è venuta non solo una rettifica ma un elemento di autocritica che sarebbe servito non solo per ristabilire la verità sul sindaco di Roma ma anche finisco il pluralismo è una cosa che noi abbiamo molto al cuore e per rimanere al tema che a noi più interessa la RAI noi intendiamo garantirlo e lo abbiamo fatto nelle audizioni dell'amministratore delegato e del presidente al quale abbiamo chiesto come forza politica che gli organi aziendali e i giornalisti della RAI si rimpossessino finalmente di tutte le loro prerogative per fare sino in fondo e con grande libertà il loro mestiere questo è il servizio pubblico che noi vogliamo vi ringrazio e chiedo scusa per la lunghezza le azioni non le abbiamo fatte certo noi allora consentiamo al ministro Di Maio di replicare alle molte domande e ai molti spunti grazie grazie presidente grazie a tutti i deputati e senatori per le domande che mi avete rivolto cercherò di seguire anche l'ordine con cui le ho annotate qui in base anche a quello che mi avete chiesto prima di tutto mi sento di rassicurare i giornalisti RAI in quanto le mie dichiarazioni non sono state mai generiche non hanno mai generalizzato anzi io penso che i giornalisti RAI proprio in riferimento al tema del contraddittorio siano il primo presidio di contraddittorio in ogni dibattito perché sono i giornalisti in qualsiasi e lo vivo diciamo da esponente politico che partecipa a tantissime trasmissioni tv siano prima di tutto i giornalisti a dover richiamare l'intervistato alla verità al fatto rispetto all'opinione che esprime l'intervistato su dei fatti ed è sicuramente auspicabile una cosa per quanto riguarda in generale le nuove media company i social che sono sempre più uno strumento di divulgazione delle informazioni io non credo che si possa arrivare ad un punto nel quale ogni volta che si crea un profilo bisogna caricare il codice fiscale e la carta d'identità ma noi stiamo lavorando anche col team digitale e l'agid a creare l'identità digitale che è la tecnologia che deve abilitare a qualsiasi tipo di identità nel senso che abbiamo sempre sostenuto nel programma della mia forza politica ci sono accenni nel contratto di governo e di certo non ci sono resistenze nella maggioranza su questo che invece di doversi identificare ad ogni app o ad ogni sito internet o ad ogni profilo social registrandosi da capo ci si debba registrare con un'identità unica elettronica che consenta poi l'accesso a tutti quei profili in generale che riguardano le nuove forme di comunicazione immaginiamo quanti username e password abbiamo creato nella nostra vita negli ultimi dieci negli ultimi anni negli ultimi dieci almeno questo sistema poi ha creato anche in alcuni casi il problema dei falsi profili ci tengo però a dire che se c'è un tema o un'esigenza legata a verificare il fatto la verifica del fatto rispetto al tema delle fake news non può riguardare soltanto il digitale non è la notizia falsa o la cosiddetta velina non vera una questione che è arrivata con le nuove tecnologie digitali con i social è una questione quella del fact checking che si pone e si è sempre posta soprattutto quando non solo in Italia quindi non voglio assolutamente localizzare all'Italia il problema si è messa in dubbio la bontà di reti o di editori che potevano avere dei conflitti di interessi e parlo anche in generale in passato non è valso solo per i privati è valso anche per il pubblico in quanto l'azionista di maggioranza della RAI era ed è lo Stato il Governo e nello specifico il Ministero dell'Economia e Finanze tengo a dire una cosa su questo faccio una premessa presidente di metodo io cercherò di dare risposte a tutte le questioni che mi avete posto stante il fatto che una parte delle domande poste su iniziative da prendere in RAI a volte dal punto di vista editoriale non riguardano e non devono e per fortuna non devono riguardare il Ministro dello Sviluppo Economico un Delega delle Telecomunicazioni ma neanche il Presidente del Consiglio devono riguardare l'amministratore delegato il Presidente il CDA che è stato nominato con una procedura di legge la nuova legge che riguardava queste nomine sono stati in alcuni casi queste cariche elette e hanno sicuramente un mandato dal Governo rispetto o dal Parlamento nel caso delle elezioni del Parlamento rispetto a delle sensibilità e quindi quando risponderò sui vari temi che mi sono stati posti in merito ad alcune questioni sui piani editoriali sulle scelte del personale sulle scelte tecniche interne alla RAI ci terrò sempre a ribadire che sicuramente noi abbiamo individuato persone con competenze e sensibilità che vanno in una direzione precisa della gestione della nostra RAI ma allo stesso tempo quelle persone devono essere libere e ci mancherebbe altro di poter prendere decisioni autonome sui vari dossier e su questo sicuramente è auspicabile che per esempio in RAI ci possano essere sempre più occasioni di fact-checking non solo rispetto ai temi che ci appassionano di più come politici ma in generale anche sul tema della scienza sul tema generale di quello che succede nel mondo mi dispiace e dispiace anche a me che ci siano poche trasmissioni di dibattito politico in prima serata anzi forse una ma noi e dico noi anche se io stavo all'opposizione alla precedente legislatura le abbiamo regalate alla concorrenza fior fior di professionisti invitandoli mettiamola così ad andare via dalla RAI parlo di Giletti parlo di Floris parlo di Giannini parlo della giornalista Gabanelli parlo di Porro ormai sono tutti regalati alla concorrenza con un danno anche economico non solo di trasmissioni nella nostra tv pubblica ovviamente il tema che hanno posto molti e prettamente competenza del mio ministero e delle mie direzioni è quello della qualità del segnale degli problemi di ricezione noi su questo miriamo con l'investimento della RAI nel nuovo multiplex UHF a risolvere questo problema e a dare un'ampia ricezione e a fornire un'ampia ricezione per i nostri utenti e per la nostra tv pubblica ed è per questo che in legge di bilancio noi erogheremo 80 milioni di euro in quota investimento alla RAI per poter affrontare questa spesa è una questione ovviamente anche di sviluppo tecnologico giustamente alcuni commissari hanno posto la questione della banda ultralarga si è citata la banda ultralarga ci servirà come il pane perché ci consentirà anche di sopperire in alcune aree ai problemi di ricezione e ovviamente sono contento che il decreto fiscale sia diventato legge perché lì dentro c'è un emendamento importante sul player unico della connettività che è solo all'inizio e ovviamente fa parte di decisioni di mercato a cui noi abbiamo aperto la porta dal punto di vista legislativo che potranno essere utili a rendere ancora più efficace l'obiettivo a traguardare l'obiettivo 2020 della copertura delle aree che sono state citate sicuramente sicuramente la banda ultralarga riguarderà anche il tema della comunità dell'informazione perché è chiaro ed evidente mi permetto di anticipare una risposta sulla direttiva cosiddetta privacy che si è discussa e si sta discutendo a livello di istituzioni europee le due forze politiche che sostengono questo governo sono arrivate al governo con la convinzione quindi i due gruppi parlamentari europei di tutte e due che questa direttiva non andava bene ma non è che non andava bene perché tutelava i contenuti ma creava un meccanismo perverso di tutela dei contenuti che finiva per gravare sugli utenti e nello specifico sugli utenti telematici in quella direttiva si è creata una follia che è la cosiddetta link tax che sostanzialmente si estrinsegherebbe nel principio per cui quando condivido un contenuto su un social potrà essere tassato ora questa direttiva però voglio dare anche una notizia legata all'apertura su questo tema a tutta la commissione noi stiamo guardando con molta attenzione in maniera favorevole la fase di trilogo su quella direttiva è la proposta della commissione di una settimana fa perché il nostro obiettivo non era e non è non tutelare i contenuti ma evitare nuove tasse agli utenti con delle cose che solo a livello europeo si possono inventare a volte e che ci ritroviamo in delle articolazioni che non poteva che vedere questa maggioranza al contrario è stato posto il tema degli idonei negli idonei relativi al concorso Rai e della scuola di Perugia io sono di un'idea ovviamente questa sarà anche una decisione che dovrà prendere il Parlamento nella fase emendativa anche della legge di bilancio e del disegno di legge di concretezza se non sbaglio cioè quello della ministra buongiorno io sono dell'idea che al direttore del personale e al CDA all'amministratore delegato della Rai si debbano mettere a disposizione tutte le professionalità nel senso che c'è la scuola di Perugia e ci sono risorse di competenze tra gli idonei di quel concorso noi dobbiamo consentire alla Rai di prendere decisioni su entrambi i fronti cioè di attingere da entrambi i serbatoi si dice ma così si bloccano i giovani oppure non si bloccano i giovani meglio tutelare ma le professionalità che devono entrare in Rai fanno parte anche di un piano di reclutamento che non dobbiamo fare noi né nella mi permetto di dire nella commissione di vigilanza né a maggior ragione noi come esecutivo ma perché non dare l'opportunità e la possibilità alla Rai di poter attingere lo fa già con la scuola di Perugia e di farlo ancora dagli idonei fermo restando che se non sbaglio diciamo adesso non ci sono imprevisioni immediate immediate assunzioni sicuramente grazie a Quotacento forse l'anno prossimo ci sarà un'accelerazione di pensionamenti anche nel mondo Rai che potrebbe rilevare e creare queste esigenze sicuramente è stata posta una questione di attenzione al territorio il tema dell'attenzione al territorio riguarda sicuramente tutto un blocco che è quella della Rai sul territorio che deve essere in grado di raccontare i territori sempre di più ma allo stesso tempo voglio dire una cosa un po' più ampia sia nel piano nell'emendamento che riguarda i fondi all'editoria sia sul Radio Radicale noi non è che stiamo tagliando dall'oggi al domani i fondi a questi soggetti per me libertà di informazione è anche non dipendere da un emendamento ad ogni legge di bilancio per me libertà di informazione è far sì che un direttore non debba ogni volta andare dal governo a dire ma ce lo rinnovate anche quest'anno con un emendamento quel fondo fermo restando che alcune testate hanno finanziamenti che raggiungono i costi di funzionamento dei top player di quel settore sia a livello cartaceo sia a livello radio sia a livello televisivo noi non è che togliamo tutti i fondi a Radio Radicale ma possiamo dire che quest'anno può andare avanti con un costo di funzionamento nel 2019 che per quello che gli eroghiamo è pari al costo di funzionamento di privati che fanno anche il triplo dello share di quella radio secondo me significa anche cominciare a dire quali sono i valori di mercato in questo momento quali sono i costi dei soggetti privati bene non gliene trasferiamo più 12-14 ma quest'anno gliene trasferiamo 6 che vengono dal mese 5 che vengono dal mese e 4 che vengono dal dipartimento della presidenza del consiglio dei ministri portato avanti con la cui delega è in capo al sottosegretario crimi lo stesso per i giornali l'avendamento presentato ovviamente tutela le testate locali perché quelle sono testate che hanno più difficoltà ad accedere alla raccolta pubblicitaria però dal punto di vista stabilendo un tetto dal punto di vista invece dei finanziamenti pubblici teniamo presente che il primo giornale accede la prima testata accede a 6 milioni di euro all'anno 6 milioni di euro andate a parlare con un'altra testata che sicuramente non mi sta simpatica non citerò che fa il triplo delle vendite in Italia e chiedetegli quanto spende in funzionamento pur non avendo un euro di finanziamento all'editoria allora è anche una questione generale di mercato e di accesso a questo mercato siccome non vogliamo determinare la morte delle testate noi abbiamo fatto un piano di decremento di decrescita del finanziamento che riguarda i tre anni il triennio e quindi al di sopra di un tetto si interviene con un decurtamento di 25 mila euro del 25% quest'anno del 50% l'anno prossimo e del 75% tra tre anni qual è l'obiettivo? Disintossicare dai soldi pubblici e quindi dalla politica mi perdoni ministro a quale emendamento fa riferimento? a breve sarà presentato nella legge no no mi scusi mi scusi fa parte del pacchetto di emendamenti sì no anche governativi perché anche governativi e giusto per concludere sì mi scusi dovevo citarne l'origine e per concludere su questo tema per disintossicare dai soldi pubblici e dalla politica le testate dandogli il tempo di accelerare la raccolta pubblicitaria perché di questo stiamo parlando poi fermo restando che se un giornale non vende più copie o ne vende pochissime allora lì si deve porre un altro problema che è anche di lettori a me è piaciuta un'espressione di un direttore di giornale che mi criticava qualche tempo fa diceva i nostri azionisti sono i lettori a me questo principio va benissimo quindi se gli azionisti investono di più vuol dire che il giornale va bene se gli azionisti investono di meno e non è una questione di cartaceo soltanto perché molti quotidiani stanno facendo dei buoni risultati sull'online quindi non è una questione legata soltanto al cartaceo accelero perché altrimenti non la finisco più è stato posto il tema del superamento del terzo di un terzo delle frequenze riservate alle tv locali ovviamente come saprete noi siamo impegnati nel piano 5G che è stato avviato dall'ex sottosegretario Giacomelli che saluto che è qui presente e che ha posto anche la domanda su questo tema il 5G si basa sul principio che dobbiamo liberare le frequenze la banda 700 su questa banda viaggiano delle reti nazionali rappresenta pure un po' una legge del contrapasso in cui il digitale si impossessa di reti delle tv per trasmettere ad una velocità impressionante e impensabile fino a qualche anno fa noi vogliamo fare in modo però che tutti gli attori di mercato sia le tv sia tutti gli operatori che hanno investito 6 miliardi e mezzo di euro nella gara sul 5G siano soddisfatti per fare questo che cosa stiamo facendo considerato che quel terzo di frequenze riservato alle tv locali è più che capiente nel senso che le tv locali non lo utilizzano tutti e possiamo ottimizzare una parte di quel terzo quindi lasciamo alle tv locali lo spazio che già stanno utilizzando noi eliminiamo questa riserva del terzo e permettiamo attraverso una procedura concorsuale alle tv alle reti nazionali generaliste di prendere quelle reti quelle frequenze che noi liberiamo così facendo comunque compensiamo lo spazio che abbiamo liberato per il 5G è un'operazione che speriamo di portare in porto il prima di far arrivare in porto il prima possibile e sicuramente non c'è da preoccuparsi dal punto di vista delle locali lei mi chiedeva se entrerà in legge di bilancio è molto probabile insomma in queste ore fermo restando che sulla legge di bilancio poi c'è diciamo una trattativa molto più grande che si sta svolgendo in queste ore che quindi a livello europeo interesserà sicuramente molto di più però c'è anche questo nel nei nostri obiettivi di governo siamo impegnati in generale sui centri media a 360 gradi a riformare tutta la materia e ovviamente questo spero che possa partire dal Parlamento perché qualsiasi progetto di riforma sul sistema radio televisivo secondo me deve essere oggetto del dibattito parlamentare dell'iniziativa parlamentare siamo d'accordo sull'idea delle quote di palinsesto che rischiano di ingessare un po' troppo perché magari i principi erano i migliori si diceva favoriamo la produzione italiana e riserviamo delle grandi quote di palinsesto significative però si è creato un ingessamento il tema vero è favorire sicuramente il mercato delle produzioni italiane ma allo stesso tempo garantire un'autonomia anche delle reti e dei soggetti che trasmettono nel scegliere i contenuti io quello che penso è che è stato trasmesso ecco cito quella mia premessa è stata trasmessa come sensibilità del governo al management della RAI sicuramente auspichiamo che si possa abbattere il problema dei conflitti di interessi che ci sono all'interno della RAI sia per quanto riguarda gli agenti sia per quanto riguarda le case di produzione garantendo più rotazione garantendo una maggiore pluralità evitando che da una parte la legge sulle quote di palinsesto da un'altra quelle che sono le dinamiche legate agli agenti e le case di produzione alla fine questo palinsesto lo facciano tutti tranne che la RAI e questo è quello che dobbiamo evitare è stato posto il tema fazio qualcuno chiede c'è un caso fazio in RAI certo c'è un caso fazio in RAI e fa parte e spero faccia parte il prima possibile delle azioni che si porteranno avanti all'interno della RAI per quanto riguarda le retribuzioni per quanto riguarda anche l'ingegneria delle società di produzione dei compensi in parte attribuiti dalla RAI e in parte attribuiti dalle società private sicuramente questo è un tema che va affrontato mi fa piacere che l'abbia posto e fa parte delle sensibilità che abbiamo trasferito al management della RAI ovviamente voi saprete che c'è un piano fino a marzo che era stato previsto dalla precedente governance della RAI speriamo il prima possibile che si possa ricostituire un po' di buon senso per quanto riguarda le retribuzioni ovviamente questo riguarda le scelte dell'amministratore delegato del direttore di rete i direttori di rete sono stati nominati da pochissimo si sono appena insediati vado avanti per quanto riguarda il tema che mi veniva posto su raccomandati le mie dichiarazioni è chiaro che c'è qualcosa sicuramente che in RAI va ristabilito lo abbiamo detto tutti nelle nostre campagne elettorali si chiama merito meritocrazia come la si vuol chiamare merito io spero il prima possibile che si possa continuare a portare avanti segnali forti in RAI io do atto all'attuale governance della RAI di aver premiato sicuramente talenti interni non è stata fatta una scelta da osservatore perché le scelte le hanno fatte loro non è stata fatta una scelta sui direttori di rete sui direttori di Tg sui vice direttori di persone principalmente esterne si crede nella struttura RAI a quanto vedo si crede nei talenti interni e da questo punto di vista ci sono state anche delle riconferme rispetto al passato penso al direttore di RAI 3 bisogna proseguire nel dare segnali interni di merito a persone che magari in tutti questi anni erano state un po' considerate quelli che dicevano troppi no e quindi non erano favorevoli a determinate dinamiche e lo stesso vale per quanto riguarda sul fondo dell'editorio ho già risposto mi si chiedeva se FOA se ritenevo compatibile la nomina di FOA la ritengo compatibilissima le elezioni di FOA e soprattutto credo che sia un giornalista che possa dare un grande lustro alla RAI e possa fare bene in RAI ci abbiamo creduto tantissimo ci crediamo tanto in questa governance e lo incoraggiamo ad andare avanti non c'è nel contratto di governo alcun cenno alla privatizzazione di canali RAI ovviamente la nomina della nuova governance va nella direzione di ottimizzare spese personale e quant'altro e per quanto riguarda i dati io mi permetto solo di citarli senza voler far polemica con nessuno ma tutti i TGD RAI nel mese di ottobre citando i dati dell'osservatorio di Pavia hanno riservato il 47% del tempo al governo e ai partiti di maggioranza e le opposizioni il 40% tra cui il 15% al Partito Democratico e il 13% a Forza Italia i dati del mese di novembre si abbassano ancora cioè 42% del tempo al governo e ai partiti di maggioranza e alle opposizioni il 38% di cui il 15% al PD e il 12% a Forza Italia dati che trovano confermano anche nelle rilevazioni condotte alla Gcom nel mese di ottobre che ha rivelato un tempo di antenna del governo del 47% e il restante tempo alle opposizioni ora c'è sicuramente un tema che veniva posto prima a cui devo dare una risposta non è che esista il tema a cui devo dare una risposta è il tema del dumping sulla pubblicità io ho visto soggetti privati accusare Rai di fare dumping sulla pubblicità io consiglio di muovere anche questa questione di fronte all'antitrust visto che abbiamo un'authority è l'occasione giusta finalmente con un ricorso all'antitrust anche di affrontare questo tema se lo fa tra l'altro il privato che lo ha detto pubblicamente accusando la Rai ci aiuta anche ad affrontare mettiamo a tutto tondo il tema della pubblicità fermo restando noi siamo molto sensibili aggiungo anche che la figura del condirettore già esistita in Rai non è un'innovazione che abbiamo introdotto noi e per quanto riguarda le domande che mi facevano molti componenti della commissione sul rispetto degli obblighi del contratto di servizi su questo c'è un comitato paritetico che deve far rispettare gli impegni del contratto di servizi e questo ovviamente contratto do tutto il merito a chi ci ha lavorato nella precedente legislatura soprattutto a questa commissione nella composizione precedente noi ci prenderemo e tra l'altro questo contratto ebbe un ampio consenso tra le forze di maggioranza e di opposizione nella precedente legislatura nella fase di composizione noi ovviamente ci premureremo di farla rispettare con gli strumenti che la stessa legge e lo stesso contratto ci forniscono credo fortemente nel ruolo di industria culturale e quindi di produzione culturale alla RAI attenzione soltanto al fatto che per riuscire a raggiungere questo fine non dobbiamo continuare nell'emorragia di giovani che non guardano più la RAI dobbiamo necessariamente su questo fare quello che si è iniziato in passato e si deve rafforzare parlando di RAI Play ma il RAI Play è un simbolo il RAI Play è solo un simbolo da questo punto di vista di una RAI che deve provare anche delle cose coraggiose mi ha fatto piacere vedere che negli accordi su alcune fiction importanti che stanno andando anche benissimo in RAI fatti ultimamente si sia deciso in alcuni casi addirittura di anticipare la trasmissione sull'app e poi di trasmetterla sulla tv e questa scelta non ha provocato un calo di share nella trasmissione tv anzi ha fatto un record questa cosa la dobbiamo tenere ben presente perché fa parte anche di una visione per cui il web ruba all'analogico mettiamolo così non è così anzi crea un effetto amplificazione nella famiglia banalmente non ne parla più solo il papà e la mamma ma ne parlano anche i figli di quel prodotto questa cosa dobbiamo continuare ad amplificarla proprio per raggiungere quell'obiettivo altrimenti i ragazzi li trasferiamo su altri produttori che prima si diceva gli over the top non pagano le tasse le posso assicurare che uno degli impegni che stiamo cercando di portare avanti in Europa non solo per quanto riguarda gli OTT nel ramo media company ma anche nel ramo e commerce è quello di stimolare la commissione europea e le istituzioni europee a prevedere nuove entrate dirette nel bilancio dell'unione europea tassando i giganti del web perché noi sappiamo che la tassazione sui giganti del web se la facciamo come singolo paese poco conta perché questi hanno sedi legali da altre parti e ci creano soltanto effetti effetti distorsivi invece per andare incontro alla considerazione fatta siccome si parla del fatto che nel nuovo piano di programma nel nuovo piano di bilancio europeo nel nuovo programma di bilancio europeo c'è il problema della della Brexit che toglie risorse agli stanziamenti degli anni precedenti a un certo punto ci hanno cominciato a dire siccome non c'è più l'Inghilterra voi dovete rinunciare ad una parte dei fondi dell'agricoltura ad una parte dei fondi della coesione sociale noi stiamo dicendo guardate ci sono tutte le opportunità per non pesare solo sugli stati con i trasferimenti degli stati ma di trovare nuove entrate anche perché questo ci consente non solo nel ramo dei media ma anche nel ramo legato ad esempio l'e-commerce ma anche il turismo e tutte le strutture turistiche di riequilibrare la concorrenza che di fatto in alcuni casi è sleale con i nostri con le nostre strutture alberghiere sul diritto d'autore ho già risposto sul dumping pubblicitario ho risposto Scusi Ministro solo per segnalarle che sui dati di ascolto del governo deve aggiungere però quelle delle forze di maggioranza che sicuramente sono inferiori a quelli dell'ultima legislatura no signor Ministro sono i dati che le citavo prima poi avremo modo di vedere alle settimane ho computato i dati signor Ministro io per correttezza io lo devo segnalare va bene la ringrazio che me l'ha segnalato la ringrazio sì per quanto riguarda il tema per quanto riguarda il tema dell'extragettito che era che era stato posto è chiaro che la terminologia come ha detto anche l'ex sottosegretario Giacomelli riguarda il precedente governo quello che noi cercheremo di fare e quindi mi collego anche a a quello che è stato posto su altri temi agli argomenti posti su altri temi è sicuramente di dare alla RAI la possibilità di fare investimenti e di farli sempre più nelle nuove tecnologie ovviamente questo extragettito adesso è diventato strutturale nel senso che non è più non è più un extragettito ma l'obiettivo è quello sicuramente di consentire alla RAI di avvalersi di queste risorse nell'ottica degli investimenti poi visto che veniva posto prima anche di ragionare in un'ottica in cui questo canone si possa anche abbassare un po' negli anni e quindi ottenere per i cittadini un abbassamento di questa spesa che è in bolletta noi per esempio faccio banalmente un ragionamento sul multiplex UHF passiamo da una spesa prevista di 200 milioni per la RAI a circa 80 milioni o qualcosa del genere questo perché la modalità di acquisto e il prodotto che acquisteremo ci consente di raggiungere comunque gli obiettivi con una tecnologia che costa di meno se si va in una direzione mi pare che abbia detto tutto la ricezione lo ripeto un'altra volta perché l'ho detto all'inizio l'obiettivo nostro è migliorarla proprio con l'investimento nel nuovo multiplex in UHF e per quanto riguarda il piano di intervento sono d'accordo a poter programmare Presidente prendo questo impegno con lei delle sessioni periodiche qui in commissione di verifica del piano che stiamo portando avanti per migliorare la ricezione la ringrazio grazie io ringrazio il Ministro Di Maio vi chiedo di rimanere per due comunicazioni intanto salutiamo il Ministro grazie arrivederci a tutti arrivederci grazie 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 grazie